I miei pronostici della giornata numero 18 di Serie A Ovviamente sulla Juventus non mi esprimo come ben già sapete Passiamo al sabato Cremonese-Monsa, vi dico che secondo me ha almeno un punto la Cremonese lo raccimolerà, vi dico 1-1 Lecce-Milan, il Milan torna a rialzare la testa dopo la brutta sconfitta di compi Italia contro il Torino Vi dico 2-1 per il Milan Inter-Ellas-Verona, vittorio in scioltezza per l'Inter, vi dico 2-0 Sassuolo-Lazio, vi dico a sorpresa, no, no, direi 2-1 per la Lazio Udinese-Bologna, dico 1-0 Udinese Torino-Spezia, 1-1 Atalanta-Saharitana, l'Atalanta vince per 2 reti a 1 La Roma vince contro la Valentina per 2-1 e l'Empoli Secondo me vincerà contro la Sampdoria per una rete a 0 No